Qualora una linea retta sia secata a metà e una certa retta sia sommata ad essa in linea retta, la somma del quadrato costruito sulla retta totale e quella sommata più il quadrato costruito su quella sommata è il doppio della somma del quadrato costruito sulla metà della retta più il quadrato costruito sulla metà più quella sommata. Allora innanzitutto dividiamo questa retta a metà, poi una volta messe in evidenza le due metà andiamo come richiesto a sommare un'altra retta in linea retta, quindi come prolungamento del nostro segmento iniziale. Allora a questo punto si sostiene che il quadrato costruito su questa retta totale data dalla nostra retta originale più il segmento blu, ovvero il quadrato costruito sulla retta data dal segmento nero, il segmento rosso e quello blu, più il quadrato costruito sul segmento blu è uguale al doppio della somma dei quadrati costruiti sul segmento nero più quello costruito sul segmento rosso e quello blu. Procediamo con la dimostrazione. Innanzitutto in questo punto di intersezione fra il segmento nero e quello rosso poniamo una perpendicolare. poi rendiamo questa perpendicolare uguale al nostro segmento nero. Adesso sono entrambi raggi in un cerchio e quindi sono uguali fra loro. Uniamo il vertice della perpendicolare con questi due estremi del segmento nero e del segmento rosso. Adesso costruiamo una parallela al nostro segmento rosso più quello blu. Ora costruiamo una parallela a questa nostra retta nera perpendicolare e andiamo a congiungere queste due rette. Adesso abbiamo che una retta, questa, interseca due rette parallele, ovvero questa e questa. Quindi la somma degli angoli interni sarà uguale a un angolo piatto, ovvero la somma di quest'angolo e questo angolo. Quindi se la somma di quest'angolo e questo è uguale a un angolo piatto, la somma di quest'angolo e questo sarà inferiore a un angolo piatto. Quindi questa retta, questa e questa, non saranno parallele e si toccheranno fra loro. Andiamo allora a prolungarle fino a trovare il punto di intersezione. Allora innanzitutto in questo triangolo abbiamo che due lati sono uguali, ovvero questo nero e questo. E quindi risulterà essere isocele e avrà gli angoli alla base, che è questa, uguali tra loro, ed essendo quest'angolo retto, infatti le due rette sono perpendicolari, i due angoli alla base saranno uguali alla metà di un retto, quindi saranno entrambi di 45 gradi. Infatti la somma degli angoli interni di un triangolo dà sempre un angolo piatto. E allora avremo questo e quest'angolo che saranno uguali a metà di un angolo retto. Per gli stessi motivi, anche da quest'altra parte, avremo che questo e quest'angolo sono uguali alla metà di un angolo retto. Infatti questo al vertice è sempre un angolo retto, essendo questa appunto una perpendicolare. e allora avremo che quest'angolo al vertice, questo, dato dalla somma di due metà di un angolo retto, è ovviamente un angolo retto. E da quest'altra parte avremo che quest'angolo, essendo un angolo al vertice con questo, è uguale, lì è uguale e quindi, essendo questo la metà di un angolo retto, anche questo risulterà essere la metà di un angolo retto. Poi, siccome quest'angolo è un angolo retto, questo, che è un angolo alterno, infatti due rette parallele, questa e questa, sono intersecate da questa retta, e quindi faranno gli angoli alterni uguali tra loro. Ed essendo appunto questo un angolo alterno con questo, e questo essendo un angolo retto, anche quest'angolo al vertice di questo nostro triangolo sarà un angolo retto, e si è detto che questo è metà di un angolo retto. Quindi, essendo la somma degli angoli interni di un triangolo pari a un angolo piatto, anche da quest'altra parte l'angolo che ne risulta sarà la metà di un angolo retto, ovvero tutti e due gli angoli alla base saranno di 45 gradi, e questo triangolo, avendo gli angoli alla base uguali tra loro, risulterà essere un triangolo isocele, e il lato blu sarà uguale a questo lato nero. Poi, in questo parallelogramma qui, un angolo è retto, quindi il suo angolo opposto, ovvero questo, sarà anch'esso retto, infatti nei parallelogrammi gli angoli opposti sono uguali tra loro. E in questo triangolo abbiamo un angolo retto e un angolo uguale a metà di un retto, ovvero un angolo di 45 gradi. E siccome la somma degli angoli interni dei triangoli è sempre uguale a un angolo piatto, anche da quest'altra parte avremo di necessità un angolo di 45 gradi, ovvero appunto la metà di un angolo retto. E allora quest'angolo e quest'angolo risultano essere uguali tra loro. Di conseguenza, questo triangolo, avendo gli angoli alla base uguali tra loro, risulterà essere isocele, e quindi questo lato e questo lato saranno uguali tra loro. Ora, abbiamo che in questo triangolo, essendo quest'angolo retto, il triangolo è il rettangolo e quindi la somma dei quadrati costruiti sui due cateti sarà uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. E essendo questi due lati uguali tra loro, infatti sono stati costruiti uguali, il quadrato costruito sull'ipotenusa risulterà essere il doppio del quadrato costruito su questo cateto, visto che appunto si vanno a sommare due quadrati uguali. E ancora, in questo triangolo, abbiamo che quest'angolo al vertice si è detto essere retto. Quindi questo triangolo risulta essere rettangolo e allora la somma dei quadrati costruiti sui due cateti, ovvero questo e questo, sarà uguale a quello sull'ipotenusa e questi due cateti si è detto essere due lati di un triangolo isocele e essere quindi uguali tra loro. Allora la somma dei quadrati costruiti sui cateti risulta essere il doppio del quadrato costruito su questo cateto e quindi il quadrato sull'ipotenusa risulta essere il doppio del quadrato costruito su questo cateto e questo cateto è anche il lato di un parallelogramma, ovvero di questo parallelogramma qui. Quindi sarà uguale al lato opposto che è questo dato dal segmento rosso e quello blu. Allora il quadrato costruito sull'ipotenusa risulta essere il doppio del quadrato costruito su il segmento dato dalla somma del segmento rosso e il segmento blu. Ora se noi andiamo a creare un altro triangolo unendo questo vertice a questo in questo modo otterremo che il quadrato costruito su questo lato che è il doppio del quadrato costruito su questo lato e il quadrato costruito su questo lato che è il doppio del quadrato costruito se detto su questo saranno uguali al quadrato costruito su questo lato come ipotenusa, infatti siamo andati a formare un triangolo che è questo, che è questo qui, in cui l'angolo compreso tra i cateti, questo, si è detto essere retto, quindi potremmo avvalerci del teorema di Pitagora ed effettivamente su questo lato come ipotenusa avremo un quadrato che risulta essere il doppio della somma dei quadrati costruiti su questo segmento nero e su questo segmento dato dal segmento rosso e quello blu e ancora abbiamo un altro triangolo rettangolo ovvero questo, infatti in questo triangolo si è detto che questo angolo è retto, quindi abbiamo che il quadrato costruito su questo segmento come ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti su questo segmento come cateto, questo dato dalla somma del segmento nero, il rosso e il blu e su questo segmento nero che si è detto essere un lato di un triangolo isocele, ovvero questo, in cui il lato che gli è uguale è questo blu, quindi sarà il quadrato costruito su questo cateto sarà uguale al quadrato costruito sul nostro segmento blu e allora risulta effettivamente come si affermava che qualora la linea retta sia secata a metà e una certa retta sia sommata ad essa, ovvero la linea retta secata a metà è questa data dal segmento nero e quello rosso e quella sommata ad essa in linea retta è questa blu, la somma del quadrato costruito sulla retta totale e quella sommata più il quadrato costruito su quella sommata, ovvero il quadrato costruito su questo segmento più quello costruito su questo segmento è il doppio della somma del quadrato costruito sulla metà della retta, ovvero del quadrato costruito sul segmento nero più il quadrato costruito sulla metà più quella sommata, ovvero del quadrato costruito sul segmento dato dalla somma del segmento rosso e quello blu. Ed effettivamente si è detto che i quadrati costruiti su questo e questo cateto risultano essere proprio il doppio dei quadrati costruiti sul segmento nero e quest'altro, in quanto doppio dei quadrati costruiti su questo segmento nero e questo dato dal rosso e blu risulta essere il quadrato costruito su questa ipotenusa.